Un gran gala lirico all'aperto dedicato a Puccini nella suggestiva cornice di Piazza San Martino. L'evento, in programma domenica 26 luglio, è stato presentato al Teatro del Giglio. La serata, oltre che dal teatro, è promossa dal Comune di Lucca con la collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini e il Teatro Carlo Felice di Genova e con il sostegno della Banca del Monte di Lucca. Protagonista in Piazza San Martino sarà la soprano bulgara Sonia Ionceva, una delle interpreti liriche più acclamate al mondo in questo momento. Al suo fianco il tenore barghigiano Marco Ciapponi. La musica sarà quella dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa. Il programma prevede alcune delle pagine vocali e orchestrali più celebri del repertorio del maestro, da La Bohème a Madame Butterfly, passando per Tosca, Suor Angelica e Manon Lescaux. È un concerto che è sicuramente un punto di arrivo e un punto di partenza. È un punto di arrivo per quanto riguarda tutta l'attività pucciniana che il Teatro del Giglio in tutti questi anni ha svolto e ha portato all'attenzione del pubblico. È un punto di partenza perché dal 26 da quest'anno parte la lunga cavalcata che ci porterà il 2024 ai festeggiamenti dell'anno pucciniano, del centenario della morte del maestro Puccini. La vendita dei biglietti per assistere a Resital, 25 euro, inizia mercoledì 15 luglio.